Ragazzi oggi voglio tornare a parlare di GAMROAD, questa piattaforma che ci permette di vendere prodotti digitali il video che ho fatto su GAMROAD vi è piaciuto tantissimo però oggi voglio più approfondire il discorso della newsletter di vendere un servizio in abbonamento perché è una piattaforma che ci dà la possibilità di creare un servizio in abbonamento di vendere praticamente l'abbonamento ad una newsletter e questo può essere un ottimo modo per fare soldi online anche con l'aiuto di ChatGPT per esempio che avevo dimenticato di aprire perché voglio farvi vedere proprio come poter sfruttare questo metodo di guadagno online attraverso ChatGPT, completamente gratuito ChatGPT è gratuito GAMROAD, prende solo il 10% sugli eventuali guadagni che fa sulle vendite, quindi per voi è gratuito quindi registratevi, io lo usavo poi ho il mio ClickFunnel, io sono Michele Maraglielo se non mi conoscete faccio un business online dalla fine del 2016 e ho un canale, un YouTube che si chiama Michele Maraglielo Musica dove appunto lavoro, vendo corsi e infoprodotti e videocorsi che sono la stessa cosa vendo infoprodotti e consulenze ai musicisti li aiuto a promuoversi da soli a mettere in piedi la loro etichetta per chi si vuole mettere in piedi e chi vuole lavorare nella musica anche da addetto ai lavori, uffici staff vabbè, però ho maturato tutta una certa esperienza della vendita di prodotti online e quindi in questo canale YouTube che si chiama Michele Maraglielo Business per differenziarlo da Michele Maraglielo Musica condivido tutto quello che ho imparato dal lato business e quindi iscrivetevi ragazzi qui vedete tutto gratis la mia esperienza di uno che lavora in questo settore dalla fine del 2016 che comunque prima lavorava comunque da solo nel senso un imprenditore ho aperto il mio ufficio stampa e poi grazie all'online ho raddoppiato i miei guadagni perché io ho l'ufficio stampa dove promuovo le band e poi insegno ai musicisti ad aprire loro l'ufficio stampa e a monetizzare loro o risparmiare i soldi della promozione promuovendo la propria musica oppure lavorare proprio trovare clienti e promuovere fare il mio stesso lavoro visto che nella musica c'è bisogno di tanta promozione ora tutto quello che ho imparato nel creare tutto questo lo diffondo qui gratuitamente e imbarazzate, iscrivetevi poi se volete fare sul serio business online sto facendo un sacco di consulenze è pazzesco come un canale youtube sia veramente incredibile per trovare clienti e vendere i propri servizi le proprie consulenze i propri prodotti quindi per ora però non sto tenendo nulla la consulenza però la faccio sto aiutando tanti di voi a capire quale business mettere in piedi come fare trovate la mia email in descrizione le consulenze non sono gratuite ragazzi qualcuno ogni tanto se ne esce ciao volevo informazioni sulla consulenza gratuita innanzitutto dove l'hai letto che è gratuita costa e un'ora del mio tempo costa non poco solo per gente motivata scrivetevi se no siamo amici come prima vi beccate i video tanto io ho tanto da fare quindi se devo sottrarre tempo al mio lavoro per parlare con voi va pagato mi dispiace non siamo una hollus come direbbe il mio più grande maestro ecco bene detto questo allora quindi iscrivetevi al canale se volete la consulenza contattatevi trovate la mail in descrizione allora Gamaroda io l'ho utilizzato poi ovviamente ho imparato ho clic funnel vendo uso praticamente ho i miei carrelli vendo io direttamente però per chi inizia Gamaroda è una grande piattaforma perché ti permette di creare il prodotto di venderlo se vendi un prodotto digitale ti fa anche la consegna la derivata ti fa anche il carrello quindi la gente può comprare con carta di credito a te ti arrivano i soldi sull'account poi te li gira basta iscriversi e quindi fa tutto lui ed è gratuito prende solo il 10% di quello che vendi ed è comodissimo per iniziare anche io l'ho utilizzato un periodo se andiamo a vedere ci sono ancora i prodotti ve l'ho fatto vedere anche in un altro video vedi ho fatto 18.000 l'ho usato per un anno 18.000 dollari ok sono lordi perché poi si fa in estate in Italia tutti mi chiedono ma ci vuole la partita IVA si ci vuole una partita IVA e io facevo la fattura ogni settimana perché loro pagano ogni settimana se non ricordo male gli facevo la fattura di cui loro non hanno bisogno perché stanno a San Francisco c'è tutto un altro tipo di regolamentazione ma noi in Italia serve fargli la fattura per fatturare va bene allora quindi cioè qui non stiamo parlando di non stiamo inventando nulla cioè perché a volte vedo dei commenti di gente che non sta né in cielo né in terra che pensa che sia tutto finto ancora pensano che l'online non si guadagna è imbarazzante l'Italia è imbarazzante sotto tantissimi punti di vista allora se noi andiamo sul nuovo prodotto però vedete abbiamo visto nel video precedente andatevelo a guardare ve lo metto nelle schede come fare 50 euro al giorno vendendo prodotti digitali che tu puoi utilizzare cialgpt che te li fa gratuitamente e poi li vendi su Gamma Road però ecco oggi vedremo per esempio l'appartenenza avvia un'attività di abbonamento attorno ai tuoi fan ok banalmente anzi no vedremo il notiziario fornisci contenuti ricorrenti tramite email però ecco anche l'abbonamento è molto interessante oggi vediamo però la newsletter perché è veramente semplice però il punto qual è ragazzi quando uno riesce a fare soldi online anche senza esperienza quando ha un audience quando ha una community ok e come si costruisce una community sui social ok quindi il processo è sempre quello create contenuti scegliete una nicchia o una competenza in cui siete bravi fate contenuti su quella competenza non sei bravo in niente beh scegliti qualcosa che ti piace e diventa e studia se tu studi due ore al giorno o un qualsiasi argomento dopo due mesi tre mesi diventi uno tra i più esperti perché in Italia non studia nessuno quindi non hai una competenza studia diventa bravo in qualcosa crea contenuti e poi per monetizzare e se tu hai l'audience hai un canale youtube una pagina instagram una pagina tiktok con la gente che ti segue ok anche se hai un cash cow channel non ci vuoi mettere la faccia va benissimo guardati su questo canale youtube ci sono video su come creare un cash cow channel su come creare un money blog anche con chargpt c'è la playlist come guadagnare con chargpt guardate quei video sono gratuiti ci sono corsi come guadagnare se non vuoi aprirti addirittura non vuoi stare sui social non vuoi costruirti un audience ti consiglio il business dei libri su amazon c'è un corso di un'ora dove puoi scrivere il libro con chargpt e venderlo siamo arrivati a 80 euro quel libro che io ho creato non so qualche mese fa ok un libricino che costa 2 euro fatto solo per farvi vedere come funziona è messo su amazon senza più cioè l'ho fatto in diretta c'è il video scrivo il libro in diretta in un'ora con jasper all'epoca non c'era ancora neanche chargpt fatto completamente solo per mostrarvi che era possibile e vi ho fatto vedere anche come pubblicarlo che poi credo sia il video più visto quello del corso il video più popolare di questo canale quel libro ha generato 80 euro senza fare niente ho fatto il video l'ho pubblicato e poi me ne sono dimenticato bene è arrivato a 80 euro mi fa già questo mese già ha fatto tre vendite siamo al 16 di maggio e non è che mi sono impegnato cioè è una roba che ho fatto per fare il video quindi funziona ok però il modo migliore a parte questo volete vendere qualcosa fare soldi online bene un'idea è costruire un audience avere praticamente sui social fare contenuti fare video se ci mettete la faccia è ancora meglio diventate esperti in qualcosa e fate video dopodiché monetizzate quindi è la parte migliore perché poi per esempio uno strumento come Gumroad vi permette di appunto monetizzare creando prodotti digitali come abbiamo visto in altro video oggi vediamo creando una newsletter dove la gente si è buona è ovvio che si è buona se vi conosce e voi vi dimostrate per esempio nei video io lo sapete il mio strumento preferito è youtube se voi fate video tutti i giorni su un argomento e siete esperti la gente lo capisce dai video e vi dimostrate autorevole quindi li potete vendere molto più facilmente però mettiamo che voi non vogliate fare non vogliate metterci la faccia potete costruire su instagram delle pagine appunto intorno ad un argomento e poi monetizzare potete fare un cash cow channel su youtube intorno ad un argomento e poi in descrizione mettere un abbonamento vuoi approfondire di più gli argomenti che trattiamo nei video gli argomenti che trattiamo in questa pagina di instagram o gli argomenti che trattiamo in questo canale di tiktok link in descrizione c'è la nostra newsletter ti abboni ogni settimana ti arriva un contenuto esclusivo un contenuto premium fai 10 euro al mese hai 100 abbonati e 1000 euro al mese per dire che poi puoi fare molto di più puoi venderlo anche a 20 euro poi ovvio c'è il 10% che prende la piattaforma però 1000 euro al mese vendendo un servizio di abbonamento a 20 euro 100 iscritti sono 2000 euro a 20 euro togli le tasse togli i camera sono 1000 euro netti li fai in maniera molto semplice se hai un audience se hai costruito ok è chiaro che molti mi accusano di essere approssimativo di farla troppo facile ragazzi è chiaro che non è facile che il problema è costruire il problema che hanno tutti è avere un audience quindi costruire una pagina apri un canale youtube ma lo state vedendo lo sforzo poi è veramente quelli che ne attaccano cioè io vi ho anche fatto vedere i guadagni di questo canale youtube ci siamo a 500 euro al mese ad aprile 500 euro al mese ma ho iniziato cioè il mese prima erano 200 il mese ancora prima erano 67 il mese ancora prima erano 27 e il mese ancora prima 0 perché ci ho messo 9 mesi per avere la monetizzazione è quella la parte difficile ma la dovete superare non dovete stare a commentare mi scrivete certi papelli e io ve lo dico non li leggo tutti ma chi c'ha il tempo a tutte le persone che scrivono cose lunghe così su youtube siete malati e chi c'è l'ha il tempo di leggervi dovreste stare lì e lavorare perché la parte difficile è proprio buttare il sangue contenuti ogni giorno non l'avete visto? andate a vedere questo canale youtube c'ha 977 video giorni che pubblico 4 video al giorno come si costruiscono le cose? non si costruiscono facilmente dimenticatevi la facilità ragazzi le cose facili sono alla portata di tutti e la maggior parte della gente è povera volete essere come tutti la media non vi dovrebbe interessare voi dovreste aspirare ai migliori cioè a me non me ne frega niente che lo stipendio medio in Italia è 1200 euro 1400 euro io so che posso fare 10.000 20.000 30.000 e studio e imparo come farli perché so che è possibile se in mente spegnete la tv quante volte ve l'ho detto sto aprendo una infinita infinite parentesi per dirvi che è chiaro che è difficile io la faccio semplice non lo so perché forse posso sembrare forse l'entusiasmo ragazzi scrivete commentatemi che va bene così quelli che comunque non ci sono solo gli haters se gli haters sono una piccola parte questo canale cresce io vi ringrazio e scrivimi il tuo entusiasmo è contagioso scrivetemelo nei commenti perché anche oggi vedremo un contenuto impazzesco di solito la gente che guarda i video capisce che c'è del contenuto lo fa su e poi di solito non commenta sta zitta quindi bisogna sempre spronarli aiutatemi contro gli haters scrivete tutti Miki il tuo entusiasmo è coraggioso è coraggioso o contagioso decidete voi ok è chiaro che è difficile io non la faccio facile questi video servono ad ispirarvi e devi buttare il sangue 4 video al giorno cioè ovviamente uno mi può dire Michele ma è per te facile mi faccio questa obiezione da solo è stato possibile tutto questo perché io avevo un altro lavoro ovviamente comunque già avviato che passivamente già mi produce ben soldini che posso lavorare posso lavorare un'ora al giorno sull'altro canale già avviato l'altro business ormai e dedicarmi a questo però ovviamente per nove mesi che non guadagnavo niente da questo canale come mi mantenevo perché avevo l'altro ho capito ma l'altro dal 2016 ci ho buttato il sangue per arrivare a 12.400 iscritti a vendere e ho lavorato e non dormivo la notte forse l'ho già raccontato andavo a fare i catering ok catering cioè vuol dire lavorare ad un matrimonio e vuol dire che il servire ai tavoli è l'ultima cosa fare i catering non è fare il cameriere fare i catering vuol dire arrivare smontare i camion cioè non smontare i camion scaricare i camion montare i tavoli montare la cucina montare tutto poi fare il servizio poi smontare tutto e ricaricare i camion una giornata torni a casa alle 3 perché magari fai un pranzo vai via la mattina finché finisci la sera la gente o fai una cena però se vai dalla mattina a un macello arrivi stanco alle 3 io che facevo lavoravo il mio progetto maledizione dovete buttare il sangue ci deve essere passione le cose non si fanno facile è chiaro che può sembrare facile ma dopo che hai buttato il sangue forse è giusto che io lo dica forse faccio un esame di coscienza probabilmente forse io ho omesso questa parte ma è così ma si sa cioè per me è scontato devi buttare il sangue devi essere focalizzato ossessionato il tuo obiettivo deve essere mi devo liberare mettiamo il caso che tu ho di quel lavoro mi devo liberare di quel lavoro di cacca devo buttare il sangue online mentre quando finisco di lavorare e l'ho già detto in altri video non vado a bere l'aperitivo a dimenticare di quanto odio il mio lavoro e odio la mia vita per stordirmi e non pensare per poi il giorno dopo hai di nuovo lo stesso problema no tu esci da quel lavoro stanchissimo distrutto magari e vai a lavorare di nuovo per la tua libertà solo così ne puoi uscire facendoti l'immazzo e ci vogliono ormai mesi se non anni prima di vedere il risultato e allora puoi piangere diremo è impossibile non piangi fai i commenti benvenuto tanto come te ce ne sono cioè poi ve lo voglio dire voi che commentate a noi non interessa cioè potete scrivere quello che volete ma sono i fatti quelli cioè i fatti sono quelli che contano ok cioè voi potete pensare quello che volete ma o scrivere cioè state attenti a quello che pensate perché quello che pensate poi vabbè vediamo il caso di un notiziario fornisce i contenuti ricorrenti tramite mail facciamo un esempio noi apriamo un cash cow channel apriamo una pagina instagram che parla di cripto primo esempio quindi possiamo creare un contenuto premium per tutti quelli che ovviamente se siamo esperti possiamo anche veramente scrivere noi contenuti per tutti quelli che vogliono approfondire ogni settimana ti mando le migliori altcoin che potrebbero fare profitti sto facendo un esempio eh migliori meme coin quindi vai su gamero vai su ti registri vai su un nuovo prodotto e poi clicchi in notiziario ok ora lo sto cliccando per la prima volta sì nome del prodotto ok cripto cripto premium i migliori nuovi token i segnalano facciamo segnaliamo i migliori nuovi token ok ora sto completamente inventando notiziario 10 euro al mese facciamo 19 un abbonamento da 19 euro al mese ok perfetto avanti personalizza qui come abbiamo visto abbiamo il prodotto facciamo la descrizione e abbiamo il nostro prodotto possiamo creare la copertina con canva possiamo fare tutto la thumbnail cioè perché una volta che ci registriamo su gamero e creiamo un prodotto si crea anche un nostro negozio online dei vari prodotti e servizi e quindi questa è l'immagine quando finiamo la gente finisce sul nostro profilo informazioni sommario aggiungi dettagli salva e continua contenuto qui c'è il contenuto editor oppure si può caricare i tuoi file reindirizza un urlo dopo l'acquisto possiamo utilizzare non so ecco un software pazzesco ragazzi questa è una bomba cioè mi è venuta adesso mentre faccio il video potrei farlo anch'io vado sull'autoresponditore ok creo un autoresponditore c'è il video quello su creo un infobusiness lì vi faccio vedere come creare un autoresponditore con getresponse che è l'autoresponditore che utilizzo io quindi con clickfunnel sono gli strumenti del mestiere ragazzi se volete lavorare online vi serve clickfunnel 97 dollari al mese cioè quello io da 97 dollari al mese va più che bene e altri 80 cioè sì sono su scusate e anche getresponse mi costa tipo 86 euro al mese neanche 200 euro 180 euro scarsi al mese quello che mi serve create con clickfunnel la landing page dove la gente si registra magari è segreta per esempio il servizio che ho copytrading michele maraglino questo qui che ho creato per tutti quelli che vogliono accedere al pdf chi segue i miei video anche sul copytrading lo conoscerà ok praticamente copytrading.michelemaraglino.com ok chi finisce qui riceve una mail automatica dove riceve il pdf però io posso creare tutta una sequenza di mail ok già ecco affezionate quindi magari invece di fare ecco invece di fare l'esempio con le crypto torniamo indietro facciamo un esempio con non lo so abbiamo parliamo di social media ok quindi possiamo creare un servizio in abbonamento su diciamo su come crescere sui social e offriamo praticamente ogni settimana una mail con 10 post su qualsiasi argomento ok ogni ogni settimana cambia l'argomento quindi 10 post sui ristoranti 10 post per chi fa viaggi per travel blog ok quindi torniamo indietro si chiamerà social media agency social media così li possiamo già creare prima 10 post a settimana per ispirare i tuoi contenuti i tuoi contenuti ragazzi sono esempi poi trasladelo nel vostro settore o in base alla sì alla nicchia in cui volete operare magari vuoi aprire una un cash cow channel sui viaggi magari puoi creare un servizio di newsletter da 10 euro al mese 19 euro al mese con le migliori che ogni settimana ti mandano le migliori mail del 2023 tu puoi poi ogni settimana creare la mail e chi entra si becca anche le mail precedenti perché c'è l'autoresponditore cioè è pazzesco il tuo entusiasmo è contagioso scrivetelo perché è veramente contenuti che nessuno vi dà perché non hanno questa visione cioè la maggior parte degli youtuber non ne c'è campa facendo i video su youtube ok e quindi io capisco i vostri commenti sarete anche stanchi ma non venite da l'unico che fa un lavoro online che lo mantiene e che qui condivide gratuitamente forse state sbagliando persone e allora copia andiamo avanti personalizza abbiamo detto notiziario per esempio 19 euro al mese anzi facciamo 15 euro al mese dai 1500 euro con 100 iscritti facciamo avanti social media social media agency no mettiamo questo 10 post a settimana ok per i tuoi contenuti ovviamente mettiamo le immagini tutto carino facciamo ok poi andiamo salva e continua e facciamo qui editor reindirizza create su click funnel una pagina in cui benvenuto al servizio lascia qui la tua mail per ricevere la newsletter in abbonamento la gente si iscrive quindi voi mettete un link ad una ad una si chiama opt in page allora per crearla guardatevi il mio video ve lo metto qui nelle schede comunque si guardatevi il video creato un info business con cha gpt o lancio che poi è stato preso lancio un info business in 15 minuti o in 30 minuti ve lo metto comunque nelle schede lì avete la parte come creare una pagina del genere su click funnel ok andate ad integrare ed iscrivetevi al canale perché avete veramente tutto gratis quindi questo lo metto qui la indirizzo in una urla dopo l'acquisto il gioco è fatto questi mi daranno ogni settimana 15 euro pubblico e continuo il gioco è fatto io vado sull'autoresponditore ve lo voglio far vedere questo è l'autoresponditore sono entrato vedete questo è l'autoresponditore per chi entra qui vi faccio vedere anche il dietro le quinte di questa unica opt in page questa lead generation che sto facendo molto timida su questo canale youtube e ricevono subito la mail quindi chi si registra qui io creo l'autoresponditore vi ho fatto vedere come si fa in quel corso guardatelo e qui vedete sono tutte le mail che io posso scrivere il primo giorno appena si iscrivono al giorno zero ricevono una mail di benvenuto dopo due giorni i primi dieci post dopo un giorno sì un giorno no oppure una settimana sette dopo sette giorni un'altra e potete programmarle tutte chi si iscrive riceverà una mail a settimana è pazzesco potete programmare tutto quindi dicevo quando andrete andrete a creare i vostri contenuti sui social se voi date consigli su come crescere sui social date dei consigli create un video un contenuto anche su instagram o un carosello allora per crescere ti conviene fare così 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 alla fine di ogni post di ogni video ci vuole una call to action gli dite ok vuoi approfondire iscriviti alla nostra newsletter premium dove condividiamo contenuti premium ogni settimana condividiamo dieci idee per post coinvolgenti è un esempio però fatevi esplodere le sinapsi 15 euro al mese ne avete fatti 100 avete mille euro scarsi al mese netti 15 poi più siete autorevoli più potete vendere anche a 47 euro al mese 37 euro al mese cioè i guadagni se avete un audience sono incredibili avete capito? andiamo su cia gpt e gli diciamo proprio mettiamo il caso che vogliamo solo fare business non sappiamo niente ci aiuta l'intelligenza artificiale scrivimi 10 post instagram coinvolgenti per un ristorante coinvolgenti che ho scritto coin volgenti ed eccoli mi sento male no? questo è il punto del video in cui mi sento male che quando vedo ciao gpt ha l'azione ecco 10 post coinvolgente per un ristorante su instagram quindi però magari il primo giorno qua comunque ho scoperto che c'è il tasto per copiare copia io creo una nuova mail qui ok e nel testo della mail metto ecco 10 scrivete copiate incollate incollate settimana dopo scrivi 10 post su un facebook per facebook per un'agenzia di viaggi ora questo è un esempio ragazzi però eccolo qua c'è il gpt e la gente paga e voi praticamente gli date degli spunti delle idee ovviamente se siete voi competenti della vostra competenti della vostra materia sarete voi a creare contenuti premium ovviamente perché comunque l'uomo però c'è anche c'è il gpt che vi può aiutare quindi di che cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno di gamma rod gratis prende il 10% delle vendite quindi su 1500 euro al mese su 100 abbonati il 10% è 150 euro spero di non aver sbagliato i calcoli il resto è vostro ok gamma rod poi vi serve click funnel per fare la landing page così la gente si iscrive da sola in automatico ed è un link segreto che riceve solo dopo che si abbona e un autoresponditore che vi fa che voi vi potete preparare già tutte le mail prima cioè questa è un'idea pazzesca vi preparate già tutte le mail prima così la gente entra ogni settimana una mail a settimana e voi vi fate tutto il lavoro prima quindi dovete cercare qualcosa che può essere utile in un determinato settore per chi ci lavora e quindi essere d'aiuto con contenuti premium se voi trovate una roba del genere che potete erogare via mail e farvi pagare mensilmente con un autoresponditore programmate le mail quindi magari vi mettete un mese programmate le mail 200 mail quindi per 200 settimane siete a posto e poi dovete solo promuovere il servizio che va avanti da solo chi entra la prima volta parte dal giorno zero grazie all'autoresponditore un banalissimo strumento online che dovreste tutti conoscere per fare un vero business online ragazzi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate scrivete Michele il tuo entusiasmo è contagioso aiutarmi commentate fate vedere questi video più gente possibile lo so incontreremo persone che scriveranno dei commenti assurdi non ci interessa io sono contento quando vedo che comunque aiuto le persone arrivo alle persone a quelle che mi interessano perché chi iscrive un papello così dicendo una cosa che ho accenato brevemente di tutto il video ha capito solo una cosa che non c'entrava niente ebbene quella gente è spacciata mi dispiace per voi chi invece ragazzi fatevi sentire commentate aiutatemi e iscrivetevi al canale e poi tutti quelli che vogliono una mano più vicino da vicino più diretta da me scrivetevi una mail facciamo una consulta se vi posso aiutare per oggi è tutto vi aspetto nei commenti iscrivetevi al canale questo è un altro video bomba e commentate commentate iscrivetevi attivate la campanella noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao